Andiamo sul jappardy Cos'è messi autistic moment? Cosa cazzo hai cercato? Lascia perdere Allora Marzo hanno aggiunto Il meno Per levare i punti nel caso di fare il 4 Quindi se la prendi Prendi quello Se la perdi perdi quello Quindi il rischio di prendere la 500 E' che potenzialmente Perdi 500 Puoi andare pure in minus O lo vedo subito aspetta Kings League Meme Blur e Marza Youtube Italia Film Disney Gay Blur Ma film Disney chi te lo pick? Io Pesh Gear 7 Gear 7 Allora dai Pico io film Disney No non è vero sto cazzo Ma vaffanculo No pico 500 Blur e Marza Eh vabbè Anzi picco 400 Blur e Marza Ok Merda Però se dice non categoria Significa che Eh quarto gioco Vabbè Fortnite è primo Rainbow Six Rocket League GTA GTA è il terzo Rainbow sarà il secondo Rocket League Call of Duty Warzone Call of Duty Warzone Eh ma vabbè Ma quando l'ho giocato YouTube Signori Meno 400 Avrei fatto un botto De ore Oh non fate le bussi Pezzi di merda No e chi lo fa Anzi Sai che te dico YouTube Italia 300 Gay Da crossbar challenge Mori Dai Dai Che f***o La sapeva il merda Dai dai Pesce Vai con Meme 400 Chi è che non vuole Smettere di muoversi Sia con le braccia Sia con le gambe A ritmo di musica Ma chi è Ma guarda che Mi sa che io lo so Io ho capito Chi è Ah chi è Nando Dai Ma che pale Lo piccavo io Frate Tu Tu Allucca Non te lo ricordi Ma tu una sera Io pensavo che stavi parlando Con qualcuno Perché io stavo De sotto E tu de sopra Che facevi Nando devi fermate Nando devi fermate Te sto dire fermate Quindi ecco VR7 Frate famme Blur Mars A 500 Mamma mia Sei gassi frate Era una cosa tipo Che poi era riferita Al Cagliari Lo devi di preciso Che cazzo Ti aveva scritto Non ti aveva scritto Cagliari Dici Cagliari Cagliari Ma perché te l'aveva scritta Sta roba L'avevamo scoperto Ma non si era Non si era mai capito Cagliari Cagliari Ah sì 500 punti Dai ragazzi Oh porco Eeeh Ma che sfiga Comunque potevi Piccare 500 Te Veramente Eeeh Boys 500 Kings League Vai Eh vabbè 500 Vabbè la sai Tio Vabbè 12 a Torino Raga 500 12 a Torino Quando e dove Nello stadio Dea Juventus Siamo piccato Quell'altro Avevo fatto Avevo fatto Un unplanning Ma come 500 Ma l'hanno ripetuto 29 volte L'altro giorno Marzò Che te picchi Ma fanculo No io debito Blur e Marza 300 Porco Vedrai che non la devo sapere Quale di queste Non è presente Nel canale del maestro Italiano English Trimone Barese Non puoi vedere Trimone Trimone Lo so Ho messo io Bravo Eh la sai Bravo Pusse E show Io Youtube Italia 200 Mazzò Sono a fare Pusse Vabbè Falle Fahrenheit Frate Ma davvero Falle Falle L'altro giorno Lo stavamo a dire Non so come va Lo stavamo a dire L'altro giorno No parole Tommy Francesca Celebre Uleso Popping bentornati Marzè Manuxo Dammi meme 500 Ma to Io non sono una puss Scegli il meglio Scegli campus Ti aspetto Eh Ti aspetto Vabbè ma ragazzi Ma meme Sì ma non mi sembrano così Sì C'è esatto Cioè io vado meme 300 Aspetta che a ferire i 13 Eh E qua Classico Pino Plastico Ma devi morire dai Get cancer No Brate Sanculo Porco Dai Regà Youtube Italia 500 Suoneresti golden hour col piano Dai ma regà Porco Il primo video Il primo video Youtube su Youtube Di Zano Il canale Quello nuovo Sarà la mia storia No Ma porco Vai Kings league 400 Ma io No scusate Ma i punti Non li stai levando più Però Già ma Ma è vero C'hai ragione Marzo Ma porco Quanto me dovevo Le fai io 7 comunque Hai detto Per ciò 7 Cazzo abbiamo fatto insieme Quanto hai piccato te Marzo Eh 500 Marzo Vabbè Tra qua E le fatte così E io avevo piccato 300 meme Vabbè Eh La bomba Eh Manuxo Il Disney faccio cacà Dammi Youtube Italia 400 Anche se è un Eh la madonna Totali Scarto i 35 milioni Poi invece Beh dico No aspetta Troppi Dico Oh totali Quindi quanto dici Mi erano già levati A me Ah ok Ah ma mi sono dato 400 Io dico Sto calcolando Quanti video ho fatto Boh dai In un anno Ne fa Ha detto 2 2 4 4 4 4 5 5 E se sta a giocare Di casa Dai C'era C'era Avrà fatto 900 milioni Avrei Dato Avrei detto 700 Eh Siamo fuori dal mondo Siamo proprio fuori dal target Ragazzi Fa pochi video Ne fa tante Dei visual Ma i video Sono pochi Mi devo ridare 300 Scusami Me l'ho già levato E Ok Sta a me Eh Vai Come Film disney 300 Abbiamo detto L'altro giorno Esatto Rade Dai Era Era Biancaneve Cenerentola Forse Biancaneve No Non era Non era questo Ah Stava Beh No Per essere Distribuito Però è il primo cortometraggio Ragazzi Ah Chi cazzo La sapeva questa Oh No Non puoi dirlo Rade Morite Marzo Ma tutto bene Blu Ray Marzo 200 Ma tutto bene Quanti mesi hai 3 anni Via 10 minuti out Blu Ray Marzo 200 Vabbè Mio fratello Marco Evans No Come no Ma frate Bravo ZV Jackson Ma la prima Perché mo Alla presentazione Della Ah ma non ho letto Porca Ho letto Quello Un coglione Ma io mettavo Marco Evans Vientra nel mondo Dei negativi Marzo Dai Ma lo sapevo Allora King's League 300 Dai raga Che cazzata È un sole Dai raga Che stronzata Quella di King's League Sì Ma che cazzo Ma non lo sapevo Che cazzo Sai È la tua 200 King's League Dai Puh sì Marchisio Ma ero convinto Se stia parlando Di Marco Evan Che stava vicino In Bianca Qual è il nome Del nano Che indossa Degli occhiali Non l'ho mai saputo Io sempre Marco Erasco Che ha per i 53 Con la D Domodosso la dici Occhio Non è vero Inizio Con la D Ti giuro che lo so Scusa Dai deal Cazzo Dottolo No Dotto e basta Vabbè ho capito E allora Dategli i punti E basta Dai Ma che cazzo vuoi Te avevo pure a te Un indizio Dai Marzo Che picchi Film Disney 6500 Bah che cazzata Io la so Porco Lo ricordo Dai La sta digitando Esperimento 626 Ma l'hai digitata Ma l'hai cercata L'ha fatto come avete fatto voi adesso Siamo pari Ma che mica l'abbiamo cercato Incredibile si Per portare Per portare Il coso Al suo Deve sempre Tirare giù l'altra Il pesce Vai Boh Meme 200 Quale meme Di Dario Moccia Comprendeva un animale Un attimo Un attimo Generica Un attimo Dan Fede Gairam Sara Ben Puessi La pantera La pantera Pantera Non ha detto pantera Si ho detto pantera Pantera Sopra Supermercato Però non so se è un meme Ah we are frogs Secondo me hai detto pantera No no Pantera Pantera Ma non so Ok me ne ho levati Tanto La prossima La trolla Da me Kings League 100 Vabbè Ibrahimovic Grazie al cazzo Ma che hai fatto Ma dovevi piccare 200 Si un coglione Ma non so se è un po' di più youtube Italia 100 Oddio Chi ha aperto Chi ha aperto il canale Willwish e Michele Molteni Willwish Willwish Invece Michele Molteni Michele Molteni Coglione Col cazzo che mi superi dei punti Pezzo di merda Pezzo Blure in marzo a 100 Blure in marzo a 100 Che pussi Ma sbaglia tanto Benfica Benfica Lo dico dopo Ok Ok Esatto Signori è matematicamente pesci il vincitore Mulan Giusto Grande vocazione E l'ultima era Come chiamano la lingua origine Moana Pozzi Moana E vinco io Non hai vinto Non hai vinto Vesce primo Manuxo secondo Io terzo Il maestro No non è vero Porco il tuo Non hai vinto